ciao ciao a tutti e bentrovati sul mio canale youtube andiamo a vedere insieme questo video ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube allora domani è primo maggio quindi velocemente voglio fare questo filone di pane come al solito ho messo in autolisi ho lasciato 30 minuti dopodiché ho messo la passamata ai pezzettini e ho fatto girare in planetaria bene ho saltato un po' di passaggi ma presto a poco se mi seguite li conoscete già tutti ecco qua quando l'impasto è pronto ho fatto girare prima piano poi un pochettino più veloce ho finito di mettere la restante acqua goccia a goccia e poi faccio delle pieghe così a volo in questo modo e metto dentro una ciotola oliata copro io adesso questo lo lascio lo sto facendo in serata per avere il pane caldo domani all'ora di pranzo lo lascio un po' a temperatura ambiente e poi lo metto in frigo la mattina dopo l'ho tirato fuori e l'ho fatto acclimatare scusatemi se non mi è saltata la foto mi ero dimenticata e procedo faccio un giro faccio il primo giro di pieghe con 30 minuti di riposo e poi al terzo giro faccio la formatura questo è il primo giro velocemente vi faccio vedere così come farle ma già le conoscete quindi è un filone semplice semplice con soltanto farina di tipo 1 io sto usando molino cipolla ok quindi è passato passato il tempo faccio la formatura nel frattempo mi sono mi sto preparando il pranzo oggi è primo maggio 2021 siamo stiamo in zona gialla però a parte che piove il tempo è brutto preferito rimanere a casa vengono i miei nipoti ci mettiamo distanziati naturalmente ma intanto io mi sono vaccinata io e mio marito qui intanto come vedete sto formando il filone e quindi siamo un pochino più tranquilli non è il caso di andare in giro perché sicuramente ci saranno assembramenti meno male che piove così almeno questi assembramenti saranno un po di meno bene speriamo che passa subito tutto presto è già un anno e mezzo che siamo così insomma sarebbe ora che ritorniamo alla vita normale allora questa volta metto il cestino senza il telo sotto come di solito faccio voglio provare avete visto ho messo tanta semola perché altrimenti poi si attacca e quindi ora il telo lo metto sopra e lascio lascio lievitare fino all'ora di pranzo lo voglio proprio caldo questo pane l'una alle 13 13 e 30 voglio infornare bene quindi eccolo qua vedete potrebbe ancora stare un pochino di più ma è tardissimo devo per forza cuocerlo un altro pochino poteva stare però si sta facendo tardi quasi mezzogiorno quindi allora ho acceso il forno a 250 250 gradi ho messo il programma con due getti di vapore adesso vediamo faccio un tag vorrei scrivere qualcosa vediamo se riesco a scrivere primo maggio giusto per per cambiare un pochino avete visto si è staccato bene dal cestino ci sono anche queste righette che ci stanno bene ho messo la semola adesso con il mio taglierino provo a scrivere primo maggio non vi prometto niente perché non è che sono bravissima specialmente a fare a scrivere poi ok forse mi sono tenuta troppo iniziato troppo troppo giù ad affinire troppo in fondo vabbè non importa taglio velocemente e poi vado subito ad infornare faccio scivolare con la pala dentro la teglia che è caldissima bene sì insisto a non usare la pietra eccolo qua ma insomma la scritta c'è sono allargata un pochino sulla destra eccolo qua questo è il pane dopo 50 minuti circa ho lasciato anche a spiffero un pochino 10 minuti e adesso vi scrivo le temperature direi che è venuto bene adesso solo mi dispiace che devo tagliarlo caldo perché ahimè dobbiamo mangiare lo stanno aspettando tutti questo pane caldo caldo vediamo vediamo com'è eccolo io direi che è bellissimo veramente bello c'è Sofia che sta aspettando la nipote piccolina mi piace tantissimo il mio pane poi manca dommaso però lo mangerà poi bene taglio il pane lo metto a tavola e ci accingiamo a mangiare in famiglia come penso quasi tutti perché sta piovendo quasi in tutta italia quindi il tempo è bruttissimo scommetto che da domani ci starà il sole bene amici ciao a tutti buon primo maggio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao